I modelli TTV possono essere dotati di iMonitor Touchscreen da 8 pollici. Il monitor è installato su un supporto mobile per non ostacolare la visibilità nelle lavorazioni o durante gli spostamenti. Questo strumento consente, oltre alla visualizzazione dei dati, l'impostazione dei parametri della macchina e l'interazione con i sistemi di guida satellitare. Sulla macchina può essere montato un modulo telematico che connette il veicolo ai sistemi di fleet management e di assistenza remota. Il fiore all'occhiello dei modelli TTV è il bracciolo MaxCom che in soli 20 cm di larghezza racchiude tutti i comandi di gestione del veicolo. Per la migliore comodità dell'operatore, il MaxCom è ancorato al sedile e ne segue i movimenti. Tuttora è il sistema più avanzato e ineguagliato di gestione del trattore. Sul joystick è presente il pulsante Comfort Tip, attraverso il quale è possibile memorizzare le operazioni ripetitive e richiamarle successivamente.